Petrella, cosa sta succedendo al termo? Una cosa che anche noi stiamo cercando di capire perché le ultime prestazioni non sono state brillantissime, però sappiamo che comunque il primo tempo di Pistoia è stato un ottimo primo tempo, poi siamo calati nel finale, però sappiamo che possiamo giocarcela con tutti quanti. Presidente, negli ultimi giorni, anche dopo la partita con la Pistoia, è rimasto male per questo risultato negativo, insomma c'è ora il Propiacenza, l'obiettivo è quello di tornare la vittoria per il Presidente, per la società e per i tifosi. Ma sì, anche perché penso che prima di esserci rimasti male siamo proprio noi giocatori insieme al Presidente, chiaramente, perché fare una figuraccia, perché perdere 4-1 e sempre fare una brutta figura non fa piacere a nessuno. Adesso arriva la Propiacenza che comunque è ultimo, però i suoi dieci punti li ha fatti, quindi di conseguenza sappiamo che se ce la mettiamo tutti e siamo concentrati per tutti i 90 minuti possiamo portare a casa la vittoria. Non esistono gare facili in questo campionato, men che meno lo sarà con una formazione che come dicevi tu ha in pratica dieci punti, ma è ultima e dunque dovrà cercare di fare risultato, insomma sarà dura. Sì, sì, la classifica è cortissima, quindi già questo dovrebbe far pensare che il campionato è molto equilibrato, ogni squadra ha i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, noi sappiamo che se puntiamo sui nostri punti di forza portiamo a casa la vittoria. A proposito di puntare, insomma, l'obiettivo del Teramo quest'anno, Petrella, qual è? Tutto ciò che viene di buono lo prendiamo e lo portiamo a casa, adesso fare dei conti, siamo a fine ottobre, è ancora difficile, più avanti sapremo qual è la giusta collocazione del Teramo in questo campionato.